Tragico incidente sul lavoro stamattina a Ceparana. Un dipendente, Marco Chiocca, di 53 anni, della ditta di materiali edili Chiappini, è precipitato da un soppalco di quasi 4 metri all'interno del capannone della stessa azienda. Nella caduta ha riportato diversi traumi, uno particolarmente grave, alla testa. È accaduto intorno alle 9.30. Immediati soccorsi, ma la situazione è apparsa subito grave. Inutilmente, il personale del 118 e della pubblica assistenza di Ceparana hanno provato a reanimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo, sposato e residente proprio a Ceparana, è deceduto sul posto. Per tentare di salvarlo, si era levato in volo anche l'elisoccorso dei vigili del fuoco per tentare un trasporto disperato verso l'ospedale San Martino di Genova. Per capire che cosa sia accaduto, stanno indagando i carabinieri il servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti del lavoro dell'ASL 5. Intanto, il sottotetto dell'azienda, dove si trova il soppalco, è stato sequestrato. La salma è stata ricomposta presso l'obitorio dell'ospedale della Spezia, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. E dopo il tragico evento e altri due incidenti sul lavoro avvenuti nei giorni scorsi, CGL e Cisle Will hanno indetto uno sciopero unitario di tre ore, dalle 10 alle 13, per lunedì 22 maggio, con un presidio sotto la prefettura. Lo sciopero non riguarderà i settori di pubblica utilità. Non bisogna mai abbassare la guardia, sottolineano le segreterie provinciali. La crisi economica non può e non deve essere un alibi per abbassare gli standard di sicurezza. Servono controlli continui sui luoghi di lavoro. Il nostro obiettivo, concludono, è ancora e sempre incidenti zero.